Abbiamo già predisposto l'invio di una ditta per risistemare, ritogliere diciamo quello che ha rovinato la mareggiata quindi toglieremo i pezzi d'asfalto che si sono mossi e provvederemo insomma con lo stabilizzato a riaprirla quindi renderla percorribile in attesa insomma di fare interventi più strutturali, questo nel giro di qualche giorno Poi ci saranno ulteriori lavori però soltanto al termine delle scogliere? Sì, abbiamo già fatto la gara per le scogliere, i lavori dovrebbero iniziare i primi del prossimo anno e una volta posizionati gli scogli non dovrebbero più arrivare le mareggiate quindi il progetto con la strada delle barche prevede il rifacimento di tutta via Ruggeri fino a viale Adriatico Prevedo il prossimo anno che riusciremo a fare questa cosa